Ma questa è un'azione simbolica, un'azione simbolica che serve anche alle altre città per stimolarli a fare meglio nell'ottica della sostenibilità ambientale. Stiamo facendo tanto come Regione Camparia perché siamo all'arguata con questo progetto, con il progetto My Leader, con tante iniziative che abbiamo messo in campo per essere a fianco dei nostri operatori. La pesca non è più la sorella povota dell'agricoltura, ma ha grande dignità, massima dignità nell'agenda politica della nostra Regione. Abbiamo l'intenzione di accompagnare questo percorso virtuoso che stiamo mettendo in campo, soprattutto accompagnando una crescita della piccola pesca e anche tanto strumenti sempre maggiori alla grande pesca che pure esiste nella nostra Regione e che pure va in qualche modo valorizzata. Grazie.